basta 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 mettete nella padella l'olio e il salone e il pannello a cagliolino basta e quando avete una cipolla un po' lato mettete zucca e sale ora mettete la zucca aggiunghete un po' l'acqua ecco l'acqua coprite con i covecchi mettete la zucca coce e aggiunghete la sarticcia per un'altra padella quando la zucca coce la guglia e aggiunghete la sarticcia coce e aggiunghete la sarticcia coce coprite con i colei coprite con i cooi coprite con i coi Buongiorno a tutti. mettiamo un po' di formaggio da segnale eeeh! ora facciamo Grazie a tutti.